E' bella a tutti ragazzi Scusate se le altre montate non ho potuto farle con l'audio Visto che non potevo Ora ho deciso di riprendere con l'audio Ho dimenticato di dove ero arrivato Quindi riprendiamo con l'audio Il gioco è davvero davvero molto carino No Questa parte qui già l'avevo fatta però eh Due coglioni Sono stato due ore per capire come Fottere sta cazzo di animale Staccargli la zampa Mosca Mosca Non mi vedrai nel buio Eh Bisogna cliccare piano piano Forse sentire la mosca Spera si arriva subito Correre e attaccarla Ecco così Quanto è forte questa mosca Mori mosca Staccati Ecco qui Ma la zampa non posso prenderla Tanto cuccia Andiamo avanti va Adesso cosa c'è il riservo per noi Eh lì c'è un tubo rotto Non potremmo stare Oh 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 Eh no Si può risalire dopo qui Ok Lì c'è un'altra strada eh Mmm best jump Siamo a vedere qui cosa c'è Esploriamo prima di qui Qui c'è Non è niente Oddio Qualcosa di strano Vediamo una cosa Cos'è Cos'è Non ci posso credere Are you fucking kidding me Allora Che faccio dopo Ah si Ho capito Ah no Si blocca qui Ok Ok fin qui ci siamo Ho capito come fare Dai Questa è un po' più vicina Non può No Aspetta un po' Perché è troppo lontano Ecco Fast 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 Non ci posso credere Qua Non ci credo Epic fail ragazzi Davvero Questo gioco è davvero Molto molto carino E comunque Non consiglio Di acquistarlo Perché è davvero davvero Bello Si chiama limbo Vabbè Se avete capito Sicuramente Ok Una ruota è andata giù Non so cosa possa servire Con la ruota Però va bene così Invece nelle scale Andate in cucciola Ce l'ho usato Ok Questo È una cassa No Ma che si sposta anche Questa è un'altra cassa Secondo me questa La dobbiamo mettere qui No aspetta aspetta Questa si sposta Non lo so Ora vedremo subito La prima cosa di qui cosa c'è Ma cosa non possiamo fare Sicuramente Ok Già capito Vai di qua Tenero 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 La ruota non rimane ferma qui Quindi No ma è inutile Cioè Che serve andare lì Ah Per far spingere questo Cosa Adesso Si è anche aperto automaticamente Perché è tornato indietro Eh Hai visto un po' E ora andiamo Sulla pasta un po' Secondo me più complicata Perché ho visto qualcosa di Bastante interessante Lì eh Stiamo la leva Sicuramente si inizia a muovere Tutto il congegno Che scivola Andiamo qui su Andiamo qui su Andiamo a prima cosa cosa scava Prima di buttare quella cosa giù Vediamo un po' Se ci serve Che andando giù Ci serve sicuramente Andiamo a riprenderla Gioco in penombra E questo Il balbuio Scendi Scendi Anche da qui Non so se già bisogna mettere Trollo lì Ma io la metto Vediamo come succede No Mi Non ci posso cre... Ah 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 Si è affinzato un attimo